Sono al lavoro dal 9 marzo i tre componenti della commissione di accesso agli atti che si è insediata al comune di Foggia. La commissione, il vice prefetto Ernesto Liguori, il vice capo della squadra mobile Maurizio Miscioscia, il tenente dei carabinieri Francesco Colucci, sta controllando l'attività dell'amministrazione comunale. I commissari, come è noto, avranno tre mesi di tempo con la possibilità di una proroga di altri tre mesi. La commissione, nominata dal prefetto Raffaele Grassi, su delega il ministro dell'interno, dovrà verificare se ricorrono pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell'attività dell'amministrazione comunale. Lasciamo lavorare la commissione, ha iniziato a lavorare, prentediamo alla commissione il tempo necessario per esitare i lavori e poi dopo si tireranno le somme.